Le voci sulla possibile rottura tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono state smentite direttamente dal cantante napoletano su Facebook, che con un messaggio ha tranquillizzato tutti i loro fan, già disperati dalla notizia partita da Dago Spia e spopolata su tutti i siti di gossip. Ebbene no, non è successo nulla. Una notizia che parlava di una bufera estiva tra me e Anna ha fatto il giro del web e in poche ore, in tanti ci hanno scritto e contattato ovunque. Tra me e Anna va alla grande, voglio tranquillizzare soprattutto i nostri fan che si sono allarmati più di tutti. Queste le parole di Gigi D'Alessio sull'ipotizzata rottura con la compagna Anna Tatangelo. Il rumor sarebbe partito dopo una furibonda lite avvenuta tra i due il giorno di per agosto, mentre trascorrevano le loro vacanze in Sardegna. E mentre Gigi smentisce, la gossipara Stefania Lucarelli rilancia. Un'altra coppia che scoppia o soltanto chiacchiere estive?